L'Aggiunta regionale ha approvato una delibera con la quale chiede al Governo la nomina del commissario straordinario che va all'Utise. Ci sono i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza ed avviare tutte le procedure per la messa in sicurezza del bacino idrico del Grassasso e dei laboratori e dell'autostrada. Chiediamo aiuto al Governo che è l'ente che ha le competenze per la risoluzione di tali problematiche e reperimento delle risorse necessarie, hanno spiegato il Presidente della Regione Marco Marsiglio e il Vice Presidente con Delega all'Ambiente Emanuele Imprudente ricordando che esiste un alto rischio di contaminazione delle falde acquifere del Gran Sasso che riforniscono 700.000 abruzzesi e che convivono con il traforo che è attraversato dall'autostrada 24 che collega Teramo e l'Aquila e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Tre realtà importanti delle quali non è possibile fare a meno perché ciò comporterebbe gravissime ripercussioni economiche e sociali per l'Abruzzo e per l'Italia centrale. La Regione non ha competenze dirette perché non è né proprietaria degli impianti né dell'autostrada né può spendere risorse per fare gli interventi importanti che devono essere fatti lì all'interno. È necessaria per la complessità del sistema del Gran Sasso che è un'unicità unica al mondo. Naturalmente questo provoca i problemi che tutti conosciamo e che abbiamo già vissuto, impone delle decisioni importanti e emergenziali perché non c'è più tempo da perdere, è troppo tempo che si rimpallano le responsabilità e la Regione quindi si pone un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti del Governo per addivenire ad una soluzione con un'assunzione importante di responsabilità individuando a nostro avviso da parte del Governo un commissario che abbia i poteri e le risorse per sciogliere tutti i nodi, per mettere in sicurezza e a regime tutto questo sistema e garantire contemporaneamente la sicurezza e la captazione delle acque. Non abbiamo chiesto nessuna deroga specifica, noi abbiamo detto c'è un'unicità che è quella del Gran Sasso. Allora se vogliamo fare gli struzzi mettiamo la testa sotto la sabbia, se invece vogliamo una volta per tutte far affrontare dai tecnici il problema Gran Sasso con tutti gli annessi e connessi è il momento che tutto emerga. Ed è chiaro che il discorso deve essere affrontato interpretando e applicando quella legge che oggi prevede determinate cose. Grazie a tutti.